Musica Buonasera e ben ritrovati a Friul Economy. Questa sera parliamo del tema della crescita dimensionale d'impresa. Il titolo che abbiamo voluto dare era Piccolo era bello, ora non più. Certamente la crescita dimensionale dell'impresa è importante per da un lato Competere meglio su scala globale E poi se non altro anche per attrarre valenti professionisti Dal mercato del lavoro del nord est italiano e magari anche straniero. Ma questi sono giusto appunto due temi Ce ne sono sicuramente tanti altri che denotano l'importanza di crescere E chiaramente anche la difficoltà però di crescere. Allora presentiamo gli ospiti che abbiamo questa sera Presentiamo la persona che è in collegamento più distante da noi in questo momento Ovvero l'amministratore delegato di FriulCam Il dottor Disna Giovanni Mazzola Buonasera Mazzola Buonasera a tutti A Friul Economy E adesso presentiamo la tribuna di imprenditori, professionisti, manager Che abbiamo qui a Friul Economy questa sera Sono veramente tanti Partiamo dal basso, partiamo da Daniele Cescutti Che è il CEO di CFM Partners Buonasera Buonasera Cescutti E lei sostanzialmente si occupa di pianificazione aziendale e corporate finance Poi alla sua sinistra, alla prima volta, anche lui qui a Friul Economy Abbiamo Marco Fadini di Lamitex Buonasera Fadini Buonasera, grazie per l'invito Abbiamo poi anche sia dell'azienda Pelfa Group che del COSE Per fin dire a Fabbro un gradito ritorno qui a Friul Economy Buonasera a Fabbro Poi un altro gradito ritorno a Alessandra Sangoi dell'azienda Sangoi Che abbiamo avuto modo di conoscere nella puntata di Friul Economy di giugno E poi l'abbiamo avuta diverse volte qua Un piacere di nuovo Buonasera Buonasera Alla sua prima qua a Friul Economy In questa puntata abbiamo anche il presidente di IQT Consulting SPA Alessandro Gasparetto Buonasera Gasparetto Buonasera, grazie, grazie a l'invito Prego Di nuovo qui a Friul Economy Sperando anche in un suo intervento Cristina Mattiussi di Engen Meccanica Buonasera Mattiussi Buonasera, grazie per l'invito Prego Un ritorno anche per Friul Economy Talita Botto che è la Legal Consultant di CF & Partners Buonasera Botto Buonasera a tutti Di nuovo qui con noi Mario Fumei Consulente Finanziario e Senior Partner di CF & Partners Buonasera a tutti Ed infine anche un gradito ritorno di Queen Fabio Valgimilli Buonasera Valgimilli Buonasera a tutti Bene, allora Dovendo parlare anche del tema Del piano industriale Che è un tema davvero importante Di questo anche come impatta Sulla governance familiare di imprese Di cui abbiamo anche Fumei Che è un esperto Partirei con due domande velocissime a Cescuti E prego la regia di Butta Zoni Prepararsi con le slide Cescuti, che cos'è un piano industriale? Buonasera intanto Il piano industriale è il documento Ovvero lo strumento che l'azienda utilizza Per dichiarare i propri obiettivi E le proprie strategie Nel medio e lungo termine sostanzialmente E quindi anche un modo per dichiarare Come intende allocare le proprie risorse In termini sia di risorse tangibili Quindi investimenti Sia in termini di capitale umano E di competenze in senso più allargato Ecco, quali sono le finalità di fare un piano industriale? Indubbiamente sono duplici Come facciamo anche vedere nelle slide Una dovrebbe avere una finalità Per diciamo di direzione Per il management Ovvero dichiarare qual è l'intento Nel medio termine In cui l'azienda si vuole rivolgere Conseguentemente organizzare anche Il proprio management in quella direzione E definire ruoli e compiti Dall'altro lato diventa uno strumento Per identificare bene Qual è il modello di business dell'azienda Come intende creare valore E quindi cominciare anche a dialogare Col mondo esterno Parlo anche del mondo dei capitali Che può valutare in maniera puntuale Appunto l'interesse Di poter partecipare in un'attività o meno Quindi un business Bene, Cescuti Lei ci ha dato un'idea di che cos'è un piano industriale Adesso sentiamo un imprenditore Imprenditore Che da tanto tempo Si trova a dover gestire i piani industriali Parliamo di Roberto Siagheri di Eurotech Che abbiamo intervistato Qui a Fruleconomy Lo ascoltiamo subito Intervista Flash E poi iniziamo a convolgere Tutti i nostri ospiti Anche coloro che sono collegati con noi da Milano Quanto ha pesato In positivo o in negativo Fare periodicamente Dei piani industriali E doverli anche poi Il più possibile seguire Siagheri Ma in realtà la difficoltà È solo all'inizio Poi quando ci si abitua Diventa quasi naturale Anzi direi che quasi Non ce la fai più senza Nel senso che Cominci ad avere Delle linee guida Che poi puoi tenere sotto controllo In realtà però Fare il piano industriale di per sé È abbastanza un esercizio facile Ci vuole poi una struttura di controllo Che controlli se effettivamente Il piano viene rispettato Non viene rispettato E dove non viene rispettato Per cui c'è tutto un sistema Di internal audit Che va messo in piedi E di conseguenza Il piano è una cosa La verifica mensile Trimestrale o annuale Dell'andamento del piano È un'altra cosa Perché anche una start up Oggi ha un piano È chiaro che poi Una start up Magari non lo controlla Su base mensile Per ovvie Questioni dimensionali Quando cominci ad avere Un'impresa Che poi va anche A quotarsi Ecco Il controllo di gestione Diventa un po' più complesso E bisogna fare i conti Con tutta una serie di interlocutori Ecco era l'amministratore Delegato di Eurotech Siagri Una precisazione Oggi in studio Ma anche in collegamento Via Skype Ci sono imprese Di classi dimensionali Molto diverse Piccole Piccolissime Medie Abbiamo sentito Un'impresa sicuramente Più strutturata Quindi cercheremo anche Di allargare questo discorso A tutti Partiamo da Fadini Di Lamitex Quali sono stati O quali sono in questo momento Gli obiettivi Del vostro piano industriale? Ma il piano industriale Noi siamo sempre stati abituati A lavorare con Business Plansing Della costituzione Dello start up E dell'investimento Nel 2007 Per passare Successivamente A diversi piani Di aggiornamento Del piano originario Anche in relazione Agli obiettivi di crescita Che hanno visto Accompagnarci Anche la finanziaria Regionale Friulia E quindi Vi hanno fatto loro Da internal audit O diciamo Da external audit Oppure avete dovuto sviluppare Come dice Siagri Anche un internal audit E quindi investire Su del personale Che vi facesse La contabilità industriale No E' chiaro che Devi avere Una struttura Organizzativa Che sappia Realizzare Un piano industriale E dopo Come diceva Siagri Anche controllarlo Periodicamente Perché ti serve Anche per controllare Se ci sono scostamenti Magari imprevisti E apportare Per tempo Gli opportuni Accorgimenti Friulia Interviene Sicuramente Con un apporto Di competenze Ad alto livello Nel guidare L'azienda Nei suoi progetti Di crescita Ecco Mazzola Ci sente Lì da Milano? Mi sento Benissimo Allora volevo Convolgerla Riguardo al piano industriale Per voi è stato Propedeutico Oppure necessario Alla quotazione E poi le chiedo Anche se Vi siete Quotati Per superare Le ristrettezze Diciamo così Dei prestiti bancari Beh il piano industriale Un po' anche per noi E' sempre stata Una prassi Fin dall'inizio Migliorato sicuramente Nella sua redazione Nella sua gestione Dopo l'ingresso Di Friulia Che anche per noi È stata Diciamo Importante Nell'organizzazione Il piano industriale Per cui è anche Stato necessario Più che Propedeutico Per la quotazione Altrimenti Sarebbe stato Difficile Proporre La nostra azienda Gli investitori Senza dimostrare loro Di avere le idee Chiare Su cosa avremmo Voluto fare Una volta votati E come avremmo potuto Utilizzare Le risorse Per raggiungere Gli obiettivi Che ci eravamo Prefissati In merito Al credito Bancario Alla quotazione Quanto C'è stata Anche quella Leva Cioè Diciamo così Quotarvi Per superare Le ristrettezze Del credito Bancario Comunque Friulchema Abbia un ottimo Rapporto Con il sistema Bancario Aumentare La nostra Visibilità Credibilità Trasparenza E comunque Migliorare Quella che è La nostra Organizzazione Aziendale Tenendo Sempre più Sotto controllo Quelli che sono Gli obiettivi E i risultati A cui dobbiamo Tendere Cotarsi in borsa È un'avventura Sicuramente Faticosa Ma È anche Molto Entusiasmante Dà Delle Possibilità Di crescita Che già Dopo qualche mese Si possono Già Intravedere Nel nostro caso Un aspetto Che in tutti I tre interventi È emerso Intanzitutto Da quello che emerge Il piano industriale Non è un documento In sé Ma è un percorso Cioè Infatti È stato rilevato Più volte Che il piano industriale Ha avuto Degli aggiornamenti E che in qualche modo Man mano L'azienda Ha sviluppato Delle competenze Sia con l'aiuto esterno Di consulenti Ma poi anche Realizzando internamente Delle competenze Che l'ha aiutata Sempre a Diciamo Migliorare Questo aspetto Quindi vuol dire Che di fatto Fare il piano industriale E seguire un certo tipo Di percorso Che mi obbliga Anche a confrontarmi Internamente Ok Quindi esplicitando In maniera trasparente Gli obiettivi E i ruoli Dei singoli Stakeholders Diventa Un esercizio Che è faticoso Ma poi produce Dei risultati Questo altrettanto vale Ecco poi Come stiamo citando adesso Nel mondo Col mondo esterno Quindi Perché questo Mi fa rilevare Anche dei difetti Che devo andare A migliorare Ok Però questo Ovviamente È un effetto Poi migliorativo Incrementale Nel valore aziendale Ecco Vediamo Indira Fabio Si era prenotata Per un intervento Io penso Che il piano industriale Per certe aziende Possiamo paragonarlo Forse più a un business plan Cioè quando siamo A un livello Un po' medio Piccola media azienda Mentre il piano industriale Si pensa più Alle aziende grandi Per quanto riguarda Invece il COSEF Di cui faccio parte Noi lì abbiamo Un piano industriale Per cui Dobbiamo programmare La nostra attività E dar conto Ai nostri soci Che sono i comuni Di quello Che noi andremo A intervenire Nelle quattro zone Industriali Il nostro piano industriale Viene presentato A dicembre E poi Nell'arco di un anno Vediamo appunto Gli interventi da fare Ecco Raccoglierei anche Due testimonianze Di altre due aziende Presenti Poi vediamo se Anche altre Ad esempio Sangoi Lei in quella puntata Di Friuli Economia Aveva rappresentato Un po' la sua azienda Che per fatturato Anche dipendenti È passibile Di un interesse O meno Ma ci dica lei Il piano industriale Ad esempio Voi potete disporre Di una persona O più da mettere Ad esempio Fare da internal audit Avete le competenze Interne per edigelo Dovete farlo esternamente Ma fino a che punto Anche siete disponibili A accettare Che un esterno Vi dica Che cosa fare O come muovere Una domanda così Noi abbiamo iniziato Ad adottare Il piano industriale Da qualche anno Nel momento in cui Abbiamo deciso Di affrontare Un percorso di crescita Che non riguardava Solo l'attività tradizionale Ma anche ambiti Affini Ma comunque diversi Dall'attività tradizionale Sviluppato da voi internamente È stato sviluppato Da noi internamente Ed è stato Uno strumento Estremamente utile Perché è vero Che ci sono Molti elementi Che dipendono Da situazioni Che poi Devono essere Confermate Quindi sono Elementi Che tu Prevedi Ma che poi Potrebbero essere Smentiti Da un'evoluzione Diversa Da quella Che tu prevedi Però il fatto Di redigerlo E di avere Questo punto Di riferimento Ti permette Appunto Di fare Poi un confronto Di capire Fino a che punto L'hai rispettato Se non l'hai rispettato Di chiederti Qual è il motivo Per cui Non l'hai rispettato E dove E di intervenire Sulle cose Appunto Che non si sono Poi confermate Rispetto a quello Che tu avevi Previsto Quindi È uno strumento Di gestione Molto importante Per andare Al di là Del ragionamento Della soluzione Del quotidiano Quindi Se tu vuoi Avere una prospettiva Un po' più lunga È uno strumento Estremamente A quanti anni L'avete fatto In avanti Cinque anni Anche se Chiaramente Sul quarto E il quinto Ti spingi Più che altro Sul piano Del piano Di investimenti Che fai Perché ci sono Altre Variabili Che possono Essere difficili Da prevedere Da qui a cinque anni Però sai che Se tu fai Determinati investimenti E non so Prevedi di ammortizzarli In cinque anni Comunque Hai un piano Di costi Di cui devi Tenere conto E in qualche modo Deve essere Poi organizzata La possibilità Di rientrare Ci fermiamo Per la prima Interruzione pubblicitaria Torniamo tra poco Qui a Friula Economia A parlare di Crescita delle imprese Piani industriali E anche Quotazione in borsa Allora abbiamo sentito Anche la testimonianza Di Alessandra Sangoi Che diceva Che internamente Hanno realizzato Questo piano Industriale Fino a cinque anni E chiaramente Passando ad esempio Da un'azienda Come Sangoi Alla Engen Meccanica Arriviamo su una classe Dimensionale Inferiore come Numero di addetti Però è significativo Ascoltare comunque Anche la testimonianza Della Mattiusi Perché potrebbe essere Rappresentativa Di tantissime piccole Piccolissime aziende Di cui il nostro territorio Friulano Del nord est Italiano Abbonda E magari Le chiediamo anche A lei Se ha pensato Di fare un piano Industriale Se ad esempio Lei come manager Dell'azienda E titolare Ha anche il tempo Materiale Per realizzarlo Se lo diciamo così Affiderebbe A qualcuno esternamente Io rappresento Una piccola azienda Che ha dei propri prodotti Tecnologici All'interno del settore Manifatturiero Metalmeccanico Credo che il piano Industriale In realtà Dovrebbe diventare Una prassi Di tutte le aziende A prescindere Dalla dimensione Perché permette Di ragionare In maniera diversa Ovvero per obiettivi Quindi L'imprenditore Dovrebbe sentirsi Obbligato Da uscire Dalla logica Della quotidianità A favore Di una programmazione Indipendentemente Poi che gli obiettivi Vengano raggiunti O meno Non è Obbligatorio E non è sempre Possibile raggiungerli Purtroppo In certe Condizioni Critiche Date Dalla dimensione Piccola Quello che dovrebbe Essere un processo Endogeno Di redazione Del piano Industriale Non è sempre Possibile Perché l'imprenditore È coinvolto In tutte le decisioni Quotidiane Quindi diventa Veramente Un atto Straordinario E non più ordinario Come per aziende Più strutturate Ecco ma poi Secondo lei Un imprenditore Si sente di affidare Esternamente Questo piano Industriale Ma più Il piano Industriale Oppure un piano Finanziario Poi su questo Chiederò anche Una risposta Magari a Fumè Credo che Un piano Industriale Per una Qualsiasi azienda Abbia Una parte strategica Una parte operativa In cui viene Declinato Il piano strategico Sia a livello Di tempi Costi E modi Una parte Finanziaria Ma quale delle due Un'azienda Secondo lei Di piccole Piccolissime dimensioni Può affidare fuori E quale invece Tenersi dentro Fondamentalmente Parlo per la nostra Esperienza E per le nostre competenze Sicuramente La parte finanziaria Ma la parte strategica Deve per forza Essere Farina del sacco Dell'imprenditore Sentiamo se Fumèi voleva Intervenire su questo Cioè Se appunto La parte finanziaria La puoi Diciamo così Esternalizzare La parte invece Operativa Strategica Un imprenditore La tiene Al suo interno La decide lui Se ha Tempo Diciamo così Rispetto a un'impresa Diciamo così Piccole dimensioni Diciamo che Secondo me L'aspetto Fondamentale Della Parte finanziaria È quella Che deve vedere Il concedente Credito Cioè la banca La banca Ha dei parametri Che sono quelli Relativi all'impatto Sul patrimonio Di vigilanza Della concessione Del credito In funzione Del rating Dell'azienda Ma il problema È quindi Quello È la caratteristica Industriale E di potenzialità Di sviluppo Dell'azienda Che la banca Non guarda Quindi direi Che il piano Industriale Potrebbe essere usato E qui faccio Lancio un appello Proprio Al sistema bancario Potrebbe essere usato Proprio Per Diciamo così Valutare In maniera Ancora più Approfondita Dopo Il rating Che viene Segnato Dai sistemi Diciamo Di valutazione Normale Delle banche La capacità Aziendale Di ritornare Poi Il denaro Questo è Il mio La mia Parere Allora Sentiamo l'intervista La seconda parte L'intervista Siagri Poi la commentiamo Con i nostri ospiti Intervista Dedicata A che cosa Significa Per un'azienda Quotarsi in borsa E quali sono le conseguenze Nella governance Ma anche per l'internazionalizzazione E la crescita di un'impresa Quindi Perfettamente in linea Con il tema di questa Sera di Friuli Economy Cominciamo dai vantaggi I vantaggi sono stati Che ci hanno permesso Di fare un piano Espansivo Internazionale Per cui Rendere sempre di più Eurotec Un soggetto globale Ed entrare Per cui nell'economia Del mondo Grazie agli aumenti Di capitale E dei soldi Che la società Ha ricevuto Svantaggi E' chiaro che Più che svantaggi Direi che C'è tutto un sistema Di corporate governance Che va messo a punto Ci sono tanti più Interlocutori A cui dare ascolto E diventa Un po' più complicato Gestire l'impresa Quanto hanno pesato In positivo E negativo I soggetti istituzionali Prima i private equity Poi i fondi di investimento Nelle scelte gestionali Di Eurotec Ogni salto alla crescita Ti costringe a fare Degli investimenti In anticipo Per anticipare la crescita Di conseguenza Non è detto che tu Come impresa Abbia quei soldi E allora O puoi andare Dalle banche Se te li danno Ma meglio Trovare dei soldi A rischio Che non devi tornare E che entrano Per cui In una struttura Di capitale E quando Nel torno al 2000 Dovevamo fare Il primo salto Abbiamo cercato Dei fondi Di private equity E abbiamo fatto Entrare Per cui nel capitale Assocetà atti intorno al 2001 I fondi E' chiaro che a quel punto lì Già ti trovi Con un ulteriore interlocutore A cui darà ascolto Nel caso Di aziende appunto Non quotate Che sono ancora private L'ingerenza è più alta L'ingerenza è più alta Perché il socio Fondo di private equity Siede anche Nel tuo consiglio D'amministrazione Vuole anche Discutere Dei piani Di crescita Perché Lui sta rischiando Abbastanza In quella fase Di conseguenza C'è un'ingerenza E all'inizio Non è facile Perché Prima sei abituato A far tutto da solo Con i tuoi amici Poi c'è qualcuno Che comincia Tra virgolette A romperti le scatole Ma se ti abitui Ti abitui E anche diventa Una cosa anche utile Perché cominci A pensarci due volte Prima di fare le cose E tutto diventa Poi anche più naturale E poi anche il passaggio Che poi abbiamo fatto noi Alla fine del 2005 Dopo cinque anni Che era entrato il fondo Perché di solito I fondi di private equity Tra i tre e cinque anni Poi devono cominciare a uscire Perché devono tornare Anche a loro volta I soldi Ai loro investitori E' stato più facile Perché eravamo già stati Abituati a fare Di piani industriali A doverli Doverne rispondere E spiegare Perché si andava In una maniera In un'altra Il passaggio poi Anche alla quotazione Fu più facile E con i fondi di investimento Dal punto di vista gestionale Come sono state le dinamiche? Ma con i fondi di investimento In realtà Una volta quotata Una volta quotata In realtà L'ingerenza è diversa Perché la separazione Diventa più marcata Nel senso che L'azionista può solo parlare Nelle assemblee Degli azionisti Il consiglio di amministrazione Può solo discutere Dentro il consiglio di amministrazione E il management Invece gestisce Giorno per giorno Per cui Ci sono tre livelli Ci sono questi livelli Di disaccopiamento Molto forti E anzi Devanno anche rispettati Per un discorso Di simmetria informativa Si dice Perché l'azionista Tutti gli azionisti Devono avere La stessa quantità Di informazioni E il board Deve avere solo Le informazioni Per decidere Sugli argomenti Del board In questo Cosa succede? Che a questo punto Se fai bene O se fai male È solo legato A come sta andando Il tuo titolo Perché se il titolo Va bene Vuol dire che Stai facendo bene E se il titolo Non va tanto bene Vuol dire che Qualcuno Non è tanto contento Poi potrebbe Non andare bene Il titolo Perché tu sei In una fase Di investimento Noi siamo stati Per molti anni In una fase Di investimento In cui è stato difficile Anche per questioni Di simmetria informativa Non potevamo sempre Dire Dire quello che facevamo Di conseguenza Dovevamo aspettare Che il risultato Si manifestasse Nei numeri E a questo punto Poi i numeri Fanno vedere Il tuo sforzo Di 5-6 anni Di investimento E a questo punto Poi diventa Tutto più trasparente E a questo punto Poi le cose vanno Però Quello che state vivendo adesso Quanto essersi quotati In borsa In questi anni Vi ha aiutato Finanziariamente? Ma ci ha aiutato All'inizio Come dicevo Però ci ha dotato Di un patrimonio E di una solidità Patrimoniale Che ci ha permesso Di attraversare la crisi Di fare tutti gli investimenti Al di là Che magari Non sempre il mercato Capiva bene Quello che stava facendo Ma l'impresa Era in qualche maniera Nero stato patrimoniale Tale da poter Passare indenne Anche queste fasi Molto critiche E in più C'è l'internazionalizzazione Acquisire aziende all'estero Costa Se l'avessimo fatto Anche con i soldi A prestito dalle banche In un momento di crisi Magari forse poi Sarebbe stato difficile Tornarli Abbiamo sentito Abbiamo sentito L'intervista Siagri Che tocca Con grande Disinvoltura Diversi temi Raccontando di fatto Anche la storia Quello che ha vissuto In prima persona In Eurotech Con la quotazione in borsa Ma anche le fasi Precedenti ad essa Allora Prima di andare Sulla quotazione in borsa E quindi di convolgere Friulchem E Lamitax Convolgiamo anche IQT E torniamo un attimo Ancora sul piano industriale E chiediamo a IQT Quindi a Gasperetto Se l'adozione del piano industriale Ha portato A dei cambiamenti In azienda E se ad esempio A livello di governance A livello organizzativo O piuttosto anche Nell'innovazione Avete avuto Un diciamo così Un aiuto Da aver fatto Un piano industriale Allora Per IQT È la prima esperienza Di piano industriale Quindi Il 2019 Lo sport di acqua Tra una gestione Annuale Di business plan Annuale E un piano industriale A 3-5 anni Ha portato Maggiore consapevolezza Del business Che presidia IQT Ha portato Forte riflessioni Sul tema Della governance E Ha portato Obiettivi Oltre al consolidamento Del mercato Italiano A iniziare Un processo Di internazionalizzazione Il tutto Presidiando Tutti gli aspetti Del business Conditi Sicuramente Da tematiche Di sostenibilità Sociale Ed ambientale Ecco ma avete dovuto Sviluppare anche Un internal audit Oppure L'avete fatto esternamente Il piano industriale Come ha funzionato Questa Allora abbiamo deciso Di avvalerci Di consulenza Di una consulenza esterna Di una società Esperta Per farci seguire Sulla metodologia Di implementazione Del piano Quindi Tutta la parte Strategica E finanziaria Riposta All'interno Di IQT Bene Adesso Andando al tema Invece Della quotazione Vediamo C'era C'era scutti Che voleva intervenire Allora Sugli ultimi interventi È emerso Un altro aspetto Che Secondo me È degno Di essere rilevato Che In qualche modo La necessità Che spinge Le imprese A fare il piano industriale È l'aumento Della complessità Perché In contesti Stabili È chiaramente Il timone Della mia barca È più facile Da gestire Quando Il contesto Diventa più complesso Quindi in qualche modo Il ciclo di vita Del prodotto In qualche modo Si riduce Devo Diciamo Devo internazionalizzarmi Devo fare Tutta una serie Di attività Che in qualche modo Richiedono Degli investimenti Che Necessino di tempo Per essere realizzati E qui Ritorno Al concetto Che è espresso La Sangoi Diventa necessario Capire Di avere Un chiaro indirizzo Perché Il risultato Lo avrò Nel medio E lungo termine Ok Quindi l'allocazione Delle risorse Diventa Diciamo Strategica Fondamentale Sbagliare Di allocare Le risorse Significa In qualche modo Poi Depoperare L'azienda Ok Questo È il senso Vedo anche Valgimilli Che voleva intervenire Rispetto a quello Che ha detto Cescutti Vediamo Poi Convolgeremo Friulchem E Lamitex Sul tema Della quotazione Sì Volevo aggiungere Una cosa Riagganciandomi Per ultimo intervento Sulla sostenibilità Perché Di Gasparetto Di Gasparetto Esatto Perché Noi vediamo Dal nostro osservatorio Noi valutiamo La maturità digitale Delle aziende La propensione all'innovazione Sui processi operativi Eccetera Quindi Quello che ci viene chiesto Oggi Sempre di più È anche di valutare La maturità Delle aziende E la sostenibilità Dei progetti Che hanno A medio e lungo periodo Questo Ovviamente Comincia ad avere Un impatto Molto importante Perché il pubblico Il consumatore È sempre più sensibile Al green Anche adesso Si fa un gran parlare Del green new deal Quindi Sta entrando un po' In tutte le tematiche Anche di finanziamento Alle imprese Incentivazione Eccetera Ecco Volevo chiedere Magari a Cescutti O agli esperti Che si occupano di questo Come vengono portati Dei modelli di misurazione Che magari In ambito bancario Già ci sono Ma a livello industriale Per poter valutare Dare un rating A questi tipi di aspetti Che oggi come oggi Diventano sempre più importanti E fondamentali E sono intangibili In questo momento Vediamo se Cescutti Riesce a fare una risposta Molto rapida E poi andiamo da Frulcan Pensiamo che ormai Il concetto Chiamiamolo così Di rischio Che è correlato Ovviamente anche All'opportunità E alla base Istanzialmente Anche della costruzione Del piano Di fatto E quindi anche Poi a seconda Del settore dell'azienda Ovviamente L'impatto ambientale Può essere più o meno Rilevante Quindi ovviamente Ci sono In fase di progettazione Proprio della strategia aziendale In molti casi Vanno valutati Questi impatti Ripeto Sia in termini di opportunità Di ingresso In un certo settore O vogliamo Effettivamente di investimento Piuttosto che Effettivamente di rischio Perché la tecnologia O eventualmente Il mio prodotto Potrebbe entrare Rapidamente obsoleto Proprio perché C'è questo tipo Di impatto Ok Non so se ho risposto E abbiamo Mazzola In collegamento Via Skype da Milano Rispetto a quello Che diceva Siagri Adesso che vi siete Quotati Avete paura o meno Di perdere il controllo Gestionale Della vostra azienda No Direi di no Avevamo Più timore Quando qualche tempo fa Anche noi Abbiamo pensato Di rivolgerci Ai fondi Di private equity Di perdere il controllo E per queste motivazioni Abbiamo sempre Alla fine Deciso Di non proseguire Per quella strada Abbiamo ritenuto Che invece La quotazione Per una realtà Come Friulcham Che ha L'ambizione Di crescere A livello dimensionale Soprattutto per linee esterne Andando a fare Delle acquisizioni E anche In maniera organica Ma soprattutto Per linee esterne Le risorse Che La quotazione Al line Che comunque Non è la borsa principale È un segmento Che per una realtà Come la nostra Si sposa molto bene Con i nostri Obiettivi di crescita Abbiamo messo Sul mercato Circa il 30% Delle nostre azioni Per cui abbiamo ancora Il controllo Siamo I maggiori azionisti Insieme A Friulcham Di Friulcham Abbiamo Solo Da Usufruire Dei vantaggi Che questa quotazione Per il momento Ci sta Ci sta dando In termini La visibilità La possibilità Di attrarre Personalità E capacità Più importanti Che sono anche Disposte adesso A venire da noi In quel di Vivaro Che insomma Con tutto il bene Che voglio Alla regione Non siamo proprio Per quanto riguarda La farmaceutica La zona più conosciuta A livello italiano Per cui La visibilità Anche che ci dà Questa quotazione Ci sta permettendo Di attrarre Dei talenti Che per il nostro Per il nostro Tecologia di business Sono molto molto importanti Farete anche Dei passi in avanti Nell'internazionalizzazione Della vostra azienda Grazie alla quotazione Un po' come aveva detto Siagri Oppure più Nell'attrazione Dei talenti Altro comunque Tema importantissimo Per le imprese La vostra finalità Mazzola No no Sicuramente Puntiamo a Fare delle acquisizioni All'estero Sinergiche Quello che facciamo Ed è uno Dei motivi principali Del nostro piano Il nostro piano industriale Di quello che poi Abbiamo presentato Agli investitori Che hanno Deciso Di credere Nel nostro Progetto Rimanendo però Sempre ben Saldi Sul territorio C'è una domanda Da parte di Fumei Vediamo se la sente Vorrei chiedere a Mazzola Se c'è un Estrategi Sicuramente ci sarà Da parte di Friulia E in quel momento Lì voi Cosa pensate Di fare E perché Non avete O perlomeno Se avete cercato Anche di fondi Private equity Che entrassero in minoranza Senza A toccare La vostra Governance Con Friulia L'operazione È una loro Operazione Classica Per noi A dire la verità Friulia è Tra virgolette Il nostro Fondo di private equity Nel senso che Nel tempo Ci ha aiutato A strutturarci Ad avere Le funzioni Interne Manageriali Necessarie Che non avevamo E da ultimo Anche proprio Ad avere L'organizzazione Che è stata Propedeutica Alla Quotazione In borsa In quanto Nell'ultimo Nell'ultima Operazione Eravamo Insomma Ci siamo accordati Per avere Bilancio Certificato L'organo di controllo L'IG231 Per cui La Friulia Da questo punto Di vista Da molto Alle aziende A cui partecipa L'exit Un exit Sarà un exit Naturale Al termine Del loro Diciamo Periodo Acquisteremo La loro Le loro Le loro azioni Non è un exit Sul mercato Bene Ci fermiamo Per una breve Pausa pubblicitaria Poi torniamo di nuovo Qui a Friulia A parlare di Crescita aziendale Piano industriale Quotazione in borsa Allora abbiamo sentito In termini di piano Industriale Un po' tutti I nostri ospiti Qui di Friulieconomy Il piano industriale Può essere fungibile Sia per una quotazione In borsa Che per la crescita Aziendale E fin qui Tutto bene Ma può anche essere utile In termini di Stabilire una governance Familiare Al termine Di un passaggio Genazionale O in vista Di un passaggio Genazionale Sentiamo Fadini Di Lamitex Ma poi sicuramente Anche Sangoi Dell'omonima azienda Magari la Matius I Pelfa E anche altri imprenditori Che magari Sono all'interno Di un'azienda familiare Ecco Per quanto riguarda Lamitex S.p.a Non è una vera e propria Azienda familiare Nel senso che È nata nel 2001 Per iniziativa Di tre amici Di tre soci Privati Non parenti Non parenti Ed è cresciuta Nel tempo Adesso È una realtà Che ha Una cinquantina Dipendenti 11 milioni di euro Di fatturato Esportiamo L'80% Del prodotto In 50 nazioni In tutti i cinque continenti È chiaro Che è un percorso Che è partito Nel 2001 E che Continua A Andare avanti Verso Degli obiettivi Che ci poniamo A cinque anni Per il raggiungimento Di un fatturato Di 15 milioni di euro Con un'ebità Del 15% Però anche oltre Perché Pur essendo Dei giovanotti L'età anagrafica Dice qualcosa Di diverso Per cui È da tempo Che stiamo Costruendo All'interno Della nostra azienda Dei manager Che abbiano La nostra stessa visione La nostra stessa etica Del lavoro Che un domani Magari Saranno loro A prendere In carico La gestione Ma sono slegati Da logiche familiari Questi manager Oppure sono i figli Del fondatore Sono slegati Da logiche familiari I nostri figli Fanno Che sono Alcuni piccoli Alcuni Voglio dire Più Più grandicelli Ma tutti quanti Scelgono Dei percorsi Diversi E questa è stata Anche una scelta Di noi soci E pertanto Dobbiamo porci Il tema Da qua A A 10 A 15 A 20 anni Cosa Che sviluppo Dare All'azienda In questo In questo scenario Quello che lei Ricordava Della quotazione In realtà Per noi È l'adesione Al progetto Elite Di Borsa Italiana Che è un progetto Che dura Tre anni Adesso a che punto siete? È terminato Il primo anno Che è quello Cosiddetto Di formazione Ci sarà Un secondo anno Che è cosiddetto Di mentoring Per cui Verranno svolte Delle attività Da esperti Di elite Di Borsa Italiana Verranno a fare Delle fasi Delle attività Di assessment All'interno Dell'azienda E nel momento In cui ci fossero Le dimensioni Ci fosse Il contesto Competitivo Creato Adatto Si può pensare Ad una quotazione Ecco perché Secondo lei Così poche aziende In Friuli In Venezia Giulia Fanno questo Percorso di elite Perché ad esempio Anch'io quando ho dovuto Cercare delle aziende Da invitare Non è che l'elenco Nel quale poi Ho trovato voi Piuttosto che anche Altre aziende Fosse davvero Un numeroso Rispetto A decine di migliaia Di imprese Che ci sono In Friuli In Venezia Giulia Ma Per quanto riguarda Noi Come ricordava Il signor Mazzola Avere la presenza Di Friuli All'interno Della società Per noi È stato Un volano Di conoscenza Anche gli altri Attori Sul territorio Ad esempio Le unioni Degli industriali Possono essere Un volano Di conoscenza E per cui Bisogna creare All'interno Comunque Della struttura Una cultura Manageriale Che sappia Accogliere Queste opportunità Che ci sono Sul mercato E E dopo Per seguirle È chiaro che ci vuole Dedizione Ci vuole lavoro Ci vuole tempo Ecco Sangoi Sentiamo Lei è di un'azienda Chiaramente familiare Porta addirittura Al suo cognome Quanto il piano Industriale Potrà essere utile Per stabilire La governance Al termine Magari O durante Un passaggio Generazionale Se è previsto Diciamo che È uno strumento Utilissimo Anche perché Noi comunque Un primo passaggio Generazionale L'abbiamo L'abbiamo Già Affrontato Cioè lei è suo fratello Di fatto Esattamente Per cui Ma nella programmazione Del prossimo Quanto secondo lei Potrebbe essere Fungibile È assolutamente È assolutamente Importante Ed è Altrettanto Importante Riuscire ad adottare Una gestione Come è stato detto Di tipo manageriale Anche se l'azienda È familiare Ed essere rigorosi Comunque Nel rispetto Delle varie funzioni E degli obiettivi Che ci si dà E anche Del funzionamento Dei vari Organi Sociali No Quindi anche La stessa Assemblea dei soci È Un organo Che deve essere Come dire Riconosciuto E coinvolto Nelle funzioni Che ha Anche se All'interno Magari ci sono Soggetti Che non sono Direttamente coinvolti Nella gestione Ma è molto importante Che appunto Venga rispettato Nel suo ruolo Quindi nel ruolo Di verifica annuale Dell'andamento Dell'azienda Di nomina Degli amministratori Anche se di fatto Siamo Membri di famiglia Però È importante Proprio In vista Nella prospettiva Ecco Di Un Un cambio Generazionale Che Essere molto rigorosi Ecco Non so se Fumai voleva intervenire Su questo aspetto Intanto dico Anche a Engen A Pelfa Che se poi Vogliono intervenire Su questo aspetto Del passaggio nazionale Legato al piano industriale Benvenga Io appunto Volevo Porre l'accento Proprio Quanto Adesso Alessandra Sangoi Stava dicendo Sulla governance Cioè Il fatto che Comunque Il piano industriale È un documento Scritto Che normalmente Viene fatto All'esterno E certifica Una certa condizione Dell'azienda Con punti di forza E debolezza Che Indubbiamente Riguardano poi Anche La parte Gestionale E la governance Ma Il fatto quindi Di avere Un piano Così Potrebbe anche Diciamo così Dare una Una maggiore Correntezza A un passaggio Generazionale Quando ci siano Delle resistenze Da parte del dominus No E tra l'altro Del fondatore Del fondatore Magari A fare un piano industriale Potrebbe aiutare Per lo meno Ecco A fare questo E contemporaneamente Anche però Ed è una cosa Molto importante Che molte volte Si trascura A creare Una governance Anche familiare Cioè Del patrimonio familiare E questa è una cosa Molto importante Inoltre Il piano industriale Mette in evidenza Anche un discorso Di rules Cioè Di Come sono fatti I contratti Ad esempio E questa è una cosa Fondamentale Magari Noi Per dire come Cf Partis Abbiamo La dottoressa Botto Che segue queste cose Che penso Possa dire qualcosa Talita Su questo punto Vediamo se interviene Talita Botto Sì Effettivamente Il ruolo Di un supporto legale Nella redazione Dei Dei piani industriali Si rivela fondamentale Perché consente Innanzitutto Di fare una valutazione Della fattibilità Del piano industriale Non soltanto Dal punto di vista Gestionale O finanziario Ma anche dal punto di vista Normativo In seconda battuta L'analisi Del supporto legale Ci consentono proprio Di fare una fotografia Della situazione Organizzativa Dell'azienda Quindi Di valutare Eventuali opportunità Di redigere Nuovi organigrammi Di ridistribuire Le deleghe Piuttosto che Di attribuire Responsabilità Secondo Il vigente Assetto normativo E da ultimo Come peraltro Diceva anche Fumai poco fa Il tema È proprio quello Di riuscire a fornire Agli imprenditori Degli strumenti Idonei Come per esempio I contratti Gli accordi quadro Gli accordi di segretezza Quindi degli strumenti Fondamentali Per ridurre il rischio Nell'esercizio Poi dell'attività Operativa E quotidiana Ecco Vediamo se Cristina Mattiussi Perfa Gruppo Avevano un intervento Rispetto a fare Un piano industriale Per superare Lo scoglio Della successione Aziendale Noi abbiamo già Subito il passaggio Generazionale Però Se posso Anche se non è Un tema Del prossimo futuro Sicuramente Redigere Un piano industriale Che permetta Una crescita Strutturata Dell'azienda Per anche L'inserimento Di figure Menageriali Credo che sia Una cosa importante A cui pensare Anche per le piccole imprese Perché Ti aiuta a gestire La complessità Del mercato Ecco Quanto vi siete dovuti Ad esempio Gasperetto di Qt Managerializzare Per affrontare Il tema Di un piano industriale Da redigere Questa è una domanda Che poi dopo Girerò anche a Fadini E a Mazzola La redazione Del piano industriale È stata una leva Per riflettere Sulla Quota Di managerializzazione Che aveva E ci siamo Resi conto Che Necessitavamo Di una maggior Managerializzazione Perché L'assenza Di questa Tipologia Di quota Di management Si è rivelato Si è rivelato Un ostacolo Nella trasmissione Della vision Della Proposa aziendale Ai livelli Operativi Ecco Quanti manager Avete adesso? Adesso avremo Una quindicina Di manager Su un totale Di quante persone In organico In organico In organico Sono 270 persone Lavoro in tutta Italia Ecco E Friulca E Mazzola Quanti manager Avete Su un totale Di organico E quanto Managerializzarvi È stato propedeutico Per la quotazione Per fare anche I piani industriali Abbiamo Sei manager Su 40 persone L'aiuto Che danno I manager È fondamentale Soprattutto Per perseguire Gli obiettivi Che uno Si prefigge Nel piano Industriale Una cosa Che volevo dire Secondo me Un po' legata Anche al tema Della Trasmissione Per me Per quello Che vede Insomma Vendo anche Un po' in giro Qui il problema Non diventa più Il passaggio Generazionale Diventa un passaggio Dimensionale Perché ormai Il passaggio Generazionale Non è sempre Una cosa Complicata Una cosa Da fare per forza Però il passaggio Dimensionale Proprio Della dimensione Dell'impresa Da come viene Gestita Un'impresa Familiare A come dovrebbe Essere gestita Un'impresa Managerializzata E questa è un po' La vera sfida Ed è quello Che noi Anche abbiamo Fatto Nel nostro Picco E L'entrata Anche Nella borsa Ecco Ma su quali leve Mazzola Uno deve Un imprenditore Deve ragionare Quando vuole fare Questo salto Cioè da impresa Magari piccole dimensioni Familiare Impresa manageriale Che cresce Magari si quota Esatto Questo è un po' Non deve pensare Mi conviene Ne vale la pena Devo farlo Secondo lei È perché Se vogliamo Competere A livello internazionale Dobbiamo crescere I nostri competitor Sono tutti più grossi Di noi Per cui Il problema è Dobbiamo crescere Dimensionalmente Magari fare Delle aggregazioni Magari metterci insieme Perché I nostri competitor In giro per il mondo Almeno per quello Che riguarda Freelcam Sono aziende Tutte molto più grosse Di noi Che hanno risorse Molto più importanti E riescono a dare Maggiori servizi Noi per competere Con loro Dobbiamo sicuramente Crescere Lo pensiamo di fare Facendo delle acquisizioni All'esterno E magari anche Aggregandoci Con altre aziende Che fanno attività Simile alla nostra Per creare un campione La mia Insomma Obiettivo Il mio sogno È quello di fare Un campione italiano Di questo settore Per andare a competere Con gli altri Attori Nel mondo Un po' come aveva fatto Segre Vediamo C'è Direi che con l'intervento Appunto Appena concluso Si chiude un po' il cerchio Perché La Diciamo La La necessità Dimensionale Diventa quasi Un elemento di sopravvivenza Perché Se non è una certa dimensione Non posso competere Non posso fare Investimenti E di conseguenza Voglio dire Il rischio appunto Di avere un depopperamento Aziendale Di qui Cosa succede Che Come è stato citato Adesso Ma anche precedentemente Dall'intervento di Siagri La crescita aziendale La crescita aziendale Oggi In molti casi Può avvenire Anzi Spesso Necessità di avvenire Per aggregazioni E per Via esterne Quindi acquisizioni E qui torna Diciamo In centro Il piano industriale Perché attraverso Questo è possibile In qualche modo Attrarre l'equity Che è Diversa Dal debito Che deve essere pronta Per poter intervenire Però solo se io ho Voglio dire La capacità Di comunicare Il valore Del mio progetto Posso attrarre il capitale Che mi consente Sviluppare Il processo Anche per via esterne Ecco Chiuderei proprio Dopo questo intervento Di Cescuti Con Fadini E con Indira Fabro Fadini Vedevo che lei annuiva Mentre parlava Mazzola Mi pare che anche voi Alla fine avete pensato A questo tema Del percorso Di piano industriale Quotazione Per creare Un soggetto Più grande Un po' come avevamo scritto Nel post di lancio Di questa puntata Su LinkedIn Di Fruleconomy Assolutamente Sono d'accordo Perché se si rimane piccoli Diciamo così I mercati rimane internazionali Tendono a stritolarti Salvo che sei in una nicchia Come Esatto Bisogna andarsi a costruire Le nicchie Nel mondo Però non basta Come Giusto Concordo con l'intervento Di Mazzola Nel senso che Dobbiamo competere In un mondo Globale Con competitors Molto più grandi di noi Bisogna essere Bisogna strutturarsi E per strutturarsi Necessariamente Devi acquisire dimensione Acquisire dimensione Non è Per linee interne Non è facile Ci vuole Tanto lavoro E adesso A mio avviso In questi anni Si aprirà Uno scenario Per possibili aggregazioni Nel senso che Visti anche i tassi Interessi così bassi Evidentemente Ma non solo Per questioni Di tassi O di convenienza Finanziaria Delle operazioni Ma necessariamente Probabilmente Una certa quota Di aziende Si sta Avvicinando Ha un fisiologico Ricambio E sarà Occasione Per tutti Chiaramente Ognuno Dovrà fare Uno sforzo Perché rinuncia Un po' Alla sua personalità Per aggregarsi E a questo punto Acquisire In un momento Solo Ma molto Rapido Una dimensione Maggiore Sarà una strada A mio avviso Obbligata Ed è una strada Che noi Siamo aperti A percorrere Anzi Teniamo sempre Sia noi Come soci Sia i nostri manager È uno degli obiettivi È quello comunque Di tenere Gli occhi E le orecchie Aperte Fuori dal Dal nostro ambito Dal nostro ufficio Per cogliere Le opportunità Dopo Per coglierle E per realizzarle È chiaro che ci vogliono I partner finanziari Ci vogliono I tecnici I consulenti Ci vogliono competenze Ecco Fabro Sentito anche questo Pensate che ad esempio In Pelfa Il percorso di quotazione E quindi Di reperire il denaro Per poi aggregare Altre imprese Sia fattibile Per voi Sia interessante Nel medio periodo Anche in virtù Di piani industriali Io penso di rappresentare La tipica azienda friulana Fondata da Per questo le faccio La domanda Fondata da mio padre Infatti quest'anno Facciamo i 40 anni Anche dell'azienda Ed è L'imprenditore Che difficilmente Lascerebbe Farebbe entrare Un private equity All'interno dell'azienda Perché l'azienda La sente sua L'ha creata lui Ha fatto crescere I dipendenti Trasformandoli poi In soci E quindi Diciamo che In questa dimensione Difficilmente Vedo un futuro Nella quotazione Borsistica Noi Quello che volevo dire È che per le piccole Medie imprese Questo tipo di intervento Nella mentalità È difficile Da far cambiare In generale Però vicino a lei Ad esempio O prima abbiamo Sentito imprenditori O manager Che erano di imprese Più piccole Ma che però Hanno deciso Dei fare il salto Come ad esempio Mazzola Diciamo che forse È più facile Parlare di reti di imprese Nel nostro livello Per cui Fare reti di imprese Per poi presentarsi Al mercato globale È la soluzione Per le PMI Per altre aziende Come ha detto lei prima È stato difficile Trovare aziende Quotate qui in regione Perché? Perché si possono Contare Penso In una mano Abbiamo delle multinazionali Che lavorano Sul mercato Borsistico Da anni E spaventa questo Chiudiamo però Con Mazzola di Filul Che la vedeva un po' Perplesso Mazzola Lei invece perché Pur essendo di un'azienda Con un numero Incredibile di pendenti Perché invece Ha deciso di fare Questo passaggio Rispetto a quello Che ha detto adesso La Fabro Per Ritorno a dire Per la dimensione Perché Capisco L'importanza Di Di avere fondato Un'azienda Però Anche il valore Io in questo modo Voglio valorizzare La mia azienda Voglio passare Da un valore Dieci A un valore Cento Avere la proprietà Del cento per cento Di qualcosa Che vale dieci Per me È meno importante Di avere Il settanta per cento Di un qualcosa Che vale Che vale cento Che in prospettiva Può crescere ancora Per quello che per me Il problema È più la dimensione Poi bisogna capire Anche che ci sono Delle culture Imprenditoriali Per l'amor di Dio Discuto spesso Con Con Friulia Sul fatto che bisogna Secondo me Comunicare di più Ho avuto L'opportunità L'occasione Di ospitare Sia il presidente Federica Che La presidentessa Di Friulia In azienda Un po' abbiamo parlato Di questa necessità Di essere Un po' più Presenti E Spiegare In qualche modo Che non Che vantaggi Anche ci possono essere Per aprirsi Un po' di più A quello che può essere Diverse forme Di Di Crescita La borsa Ma anche Pravi e tecniche Certo Perché io non l'ho fatto Vada male Pravi e tecniche Però ci sono altre forme Questo non vuol dire Che si perde Il controllo O si perde La proprietà L'abbiamo cercato Di fare in tutta Questa puntata Appunto di Friulieconomy Dando queste altre Diciamo così Tipologie di opportunità Sentendo diverse Tipologie di imprenditori Con diverse esperienze Ringrazio tutti Per questa puntata Mi scuso Se siamo andati Un po' oltre Come tempo Ci diamo appuntamento Fra un'altra settimana A Friulieconomy Per un'altra puntata Legata Al diversity Management Buona serata a tutti E arrivederci Grazie Grazie a tutti Grazie a tutti